Si è tolto la vita a 42 anni perché chiedeva un posto di lavoro che non riusciva ad ottenere. Fabio Di Muro, precario da sempre e troppo vecchio per essere stabilizzato. In preda la disperazione ha deciso di farla finita nella sua auto a Qualiano di Napoli, a due passi dalla stazione, lasciando una lettera in cui ha raccontato la storia della sua vita da vigile del fuoco in cerca di stabilizzazione. Ma è arrivata. La delegazione regionale calabrese dei vigili del fuoco ha voluto ricordarlo in una manifestazione a Catanzaro. Sì, noi siamo qui proprio perché noi non possiamo digerire, non abbiamo digerito la storia che è successa a questo nostro collega, perché noi abbiamo perso un amico, un collega e un fratello, quindi noi non l'abbiamo digerito. Noi in parecchi comunicati abbiamo praticamente preventivato quello che sarebbe successo se praticamente non si risolvesse questa problematica, voglio dire. Quindi l'abbiamo sempre ribadito che ci sarebbe stata questa determinata situazione, perché è uno status di oppressione nei confronti dei lavoratori, perché noi chiediamo diritti. Con questo discorso non è possibile. Adesso noi abbiamo la risoluzione Fiano, che prevede praticamente la risoluzione di tutta questa stabilizzazione, di tutto questo personale, affinché finiscano questa macellazione umana, perché praticamente non è possibile andare avanti così. Dobbiamo capire perché questa risoluzione Fiano, come testo, è immessa nella legge delega della riforma della pubblica amministrazione della Madia. Noi due settimane fa, attraverso il coordinamento nazionale precaria a nome di Gabriele Miele, abbiamo fatto una richiesta di incontro per la Madia, perché lei sa quando verrà, diciamo, tra virgolette calendarizzata. Quindi dobbiamo cercare di capire questa cosa.